Stop TTIP vuol dire mettere le persone prima dei profitti. TTIP, CETA, TISA e TPP sono accordi commerciali che minacciano la nostra democrazia, i servizi pubblici, gli standard sociali e ambientali, minano l'agricoltura di qualità e di piccola scala, gli standard alimentari e farmaceutici e la transizione energetica. A trarre vantaggio da questi accordi sono le multinazionali e i grandi gruppi finanziari. Cittadini, enti locali, parlamenti, governi, interi stati esautorati dalle scelte economiche, messe nelle mani di organismi controllati da multinazionali e gruppi finanziari, violando i diritti dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la sicurezza alimentare, demolendo servizi pubblici e beni comuni. Per tali ragioni, espresse dalla campagna Stop TTIP, promotrice della manifestazione del 7 maggio a Roma, va respinto il partenariato transatlantico su commercio e investimenti, negoziato segretamente tra USA e UE. A tali ragioni se ne aggiungono altre di cui poco o niente si parla, quelle di carattere geopolitico e geostrategico, che rivelano un piano molto più ampio e minaccioso. L'ambasciatore USA presso la UE, Anthony Gardner, insiste che vi sono essenziali ragioni geostrategiche per concludere l'accordo. Quali siano tali ragioni, lo dice lo US National Intelligence Council. Esso prevede che, in seguito al declino dell'Occidente e l'ascesa dell'Asia, entro il 2030 gli stati in via di sviluppo sorpasseranno quelli sviluppati. Per questo Hillary Clinton definisce il partenariato USA-UE maggiore scopo strategico della nostra alleanza transatlantica, prospettando una Nato economica che integri quella politica e militare. Il progetto di Washington è chiaro, portare la Nato a un livello superiore, creando un blocco politico, economico e militare USA-UE, sempre sotto comando statunitense, allargato a diversi partner sulle due sponde dell'Atlantico ed oltre, compresi alleati quali Israele e monarchie del Golfo. Blocco che, nella strategia di Washington, dovrebbe contrapporsi all'area euro-asiatica in ascesa, basata sulla cooperazione tra Russia e Cina, ai BRICS, all'Iran e a qualunque altro paese si sottragga al dominio dell'Occidente. Il primo passo per realizzare tale progetto è stato quello di creare una frattura tra Unione Europea e Russia. Nel luglio 2013 si aprono a Washington i negoziati per il TTI, che stentano a procedere per contrasti di interesse tra gli USA e le maggiori potenze europee, alle quali la Russia offre vantaggiosi accordi commerciali. Sei mesi dopo, nel gennaio-febbraio 2014, il push di piazza Maidan, sotto regia USA-NATO, innesca l'aversione a catena. Attacchi ai russi di Ucraina, distacco della Crimea e sua adesione alla Russia, sanzioni e controsanzioni, ricreando in Europa un clima. la guerra flotta. Contemporaneamente, i paesi della UE vengono messi sotto pressione da flussi migratori provocati dalle guerre USA-NATO, Libia, Siria, cui essi hanno partecipato. ed attacchi terroristici firmati dall'Isis, creatura delle stesse guerre. In questa Europa, divisa da muri di contenimento dei flussi migratori, in cui si diffonde la psicosi da stato di assedio, gli USA lanciano la più grande operazione militare dalla fine della guerra fredda, schierando a ridosso della Russia cacciabombardieri e navi da guerra a capacità nucleare. La NATO sotto comando USA, di cui fanno parte 22 dei 28 paesi UE, intensifica le esercitazioni militari, oltre 300 nel 2015, soprattutto sul fronte orientale. Lancia allo stesso tempo, con unità aeree e forze speciali operazioni militari in Libia, Siria e altri paesi del fronte meridionale, strettamente connesso con quello orientale, in particolare dopo l'intervento russo in Siria. Tutto ciò favorisce il progetto di Washington, di creare un blocco politico, economico e militare USA-UE, progetto che ha l'incondizionato consenso dell'Italia, oltre che dei paesi dell'estero legati più agli USA che alla UE. Le maggiori potenze, in particolare Francia e Germania, stanno ancora contrattando, intanto però si stanno integrando sempre più nella NATO. Il Parlamento francese ha adottato il 7 aprile un protocollo che autorizza l'installazione sul proprio territorio di comandi basi NATO, installazione che la Francia aveva rifiutato nel 1966. La Germania, riporta De Spiegel, è disponibile a inviare truppe in Lituania per rafforzare lo schieramento NATO nei paesi baltici, a ridosso della Russia. La Germania, riporta sempre De Spiegel, si prepara a installare una base aerea in Turchia, dove già operano tornado tedeschi ufficialmente in funzione anti-ISIS, rafforzando lo schieramento NATO in quest'area di primaria importanza strategica. La crescente integrazione di Francia e Germania, nella NATO sotto comando USA, indica che sulle divergenze di interessi, in particolare sulle costose sanzioni alla Russia, stanno prevalendo le ragioni geostrategiche del TTIP. Grazie a tutti!